Siamo qui di pranzo. Adesso dobbiamo cercare di specializzare i nostri elementi. Percedente abbiamo visto uno spazio discreto. Uno spazio discreto è uno spazio che in qualche modo è somorfo all'insieme dei numeri naturali, se vogliamo all'insieme dei numeri razionali. Molto spesso noi potremmo, cioè in questo caso la probabilità viene assegnata a elementi discreti, cioè se è uno spazio discreto ad ogni elemento associa una probabilità attraverso una procedura che ancora non sappiamo quale sia dal punto di vista fisico, ma che è rigorosamente definita dei suoi aspetti astratti. Noi in generale abbiamo a che fare con misure. Misure significa dei numeri. Dal punto di vista pratico questi numeri sono un insieme dei numeri razionali, se no, non è proprio così. Perché poi ci sono delle misure che potrebbero anche dare attraverso delle opportune relazioni dei numeri razionali. Ma diciamo, comunque, abbiamo a che fare con misure che sono un sotto insieme dei numeri reali. Dove abbiamo visto degli esempi in R quadro, quindi in generale lo spazio su cui lavoriamo è o lo spazio lineare R, o uno spazio, per esempio, R quadro, R cubo, R, informazioni spaziali, informazioni assegnate in un volume. Nella prima lezione vi ho detto, il volume di controllo, queste cose qua. In certe condizioni potremmo assegnare delle probabilità nello spazio-tempo, quindi quattro dimensioni. Comunque, dopo, si può complicare naturalmente la situazione. E, in questo caso, le nostre probabilità sono che cosa? Funzioni che mappano un certo sottointervallo di uno certo spazio R, N, in 0, 1. In questo caso, la funzione che fa questa mappatura si chiama funzione di ripartizione. Se lo spazio di base, per esempio, ho una misura singola, l'altezza di precipitazione, lo spazio di base è di R. R infinito non esiste, ma possiamo pensare in alcune situazioni che esista anche R infinito. Quindi, in questo caso, la variabile si dice B variata, perché ho una R, se mi metto una coordinata su R, che può essere la coordinata che mi rappresenta la mia misura, e ho una mappatura di R in 0, 1. Questa è la probabilità, si chiama funzione di ripartizione. Se invece è R quadro, in 0, 1, ho una funzione B variata, che dipende da dove può ordinare. Anche qui ho due elementi. In un certo senso, uno potrebbe fare un riferimento a quanto abbiamo detto prima, relativamente agli insiemi, ma gli insiemi avevano dimensioni topologiche, e geometriche di qualsiasi tipo. ammesso che ce l'è anche, addirittura, sovrebbero, in teoria, essere, sono degli insiemi assolutamente generici, generici in teoria, su quali non abbiamo detto nulla. Comunque, se di R e di 0, 1, è una funzione multivariata. E quindi, i nostri A e B, in questo caso, sono, nel caso di R, degli intervalli dell'asse reale. Nel caso di R quadro, sono delle superfici, dei poligoni, o delle figure chiuse in R quadro, e così via. Spesso, come notazione, noi andremo ad indicare la funzione in questo modo qua. P, la probabilità, la funzione di ripartizione. Questo è un riferimento specifico al random sampling. Dicono, ho una variabile casuale, che io ho campionato in maniera casuale. Vuol dire che se la campiono un'altra volta, ho un valore diverso. Qual è la probabilità che quella variabile casuale sia minore di un certo valore prefissato, il spiccolo numero 5, 35, 40, 8 fantastiglioni. Qui ho aggiunto anche un'altra cosa, che finora non era mai comparsa. Nella definizione univariata, multivariata, di queste probabilità, io dovrò dare una forma a queste funzioni che non ho mai. Molte volte questa forma dipende da parti che hanno un'assonanza con il nome di parametri che avevamo introdotto prima e non a caso in statistica. Quindi una funzione di ripartizione, in genere, non è semplicemente una funzione, ma una famiglia di distinzioni dipendente da parametri. Per esempio, un intervalo tra x1 e x2, queste sono funzioni univariate, possono scrivere così, possono generalizzare gli spazi con più dimensioni. La funzione di ripartizione si chiama anche una funzione di probabilità accumulata, distribuzione di probabilità accumulata, che risuona come quella che avevamo sentito prima, cioè empirical cumulative distribution function, non è semplicemente cumulative distribution function, perché non è più empirica, perché la fila assegna attraverso un processo che in teoria è astratto dalla realtà dei empirici. Se la funzione è almeno di class C1, la derivo ed ottengo quella che chiamo funzione densità di probabilità. Come è fatta una funzione densità di probabilità? È una funzione, per esempio, nel caso univariato, tra 0 e 1, e uso per un altro questo diagramma per rappresentarla, perché secondo me, a parte che è cogente con quello di cui parliamo in questo corso, è anche interessante spiegarmi bene che cos'è la distribuzione. Vedete qui come una linea è continua, è rappresentata una funzione, questa funzione è simmetrica, rispetto quindi moda e mediana, su C1, quindi questa funzione è una funzione densità di probabilità, la sua area è 1, su tutto il dominio di definizione, qui potremmo pensare che il dominio si estende da meno infinito a più infinito, non potremmo anche pensare che finisca il dominio, ma ora non lo sopiamo, non ho scritto che non è così. Vedremo poi che il concetto di varianza è legato all'idea di quanto larga è questa curva, per esempio questa curva qui ha meno varianza di quest'altra curva. Poi naturalmente le curve possono essere, vi ho detto che sono famiglie parametriche di curve, per esempio io assegno questa curva, però posso shiftare verso un'altra probabilità, in questo caso in funzione del cambiamento climatico, quindi variando quei parametri, magari vario la forma della fusione, ottengo da questa fusione, questa è un'altra funzione che è sempre la distribuzione di probabilità, a area 1, però non è più simmetrica, ed è Thomas CUNES, linguaggio precedente della statistica, girato dall'altra parte. Dalle equazioni che abbiamo scritto prima, segue una proprietà ovvia, ma talvolta dimenticata, cioè che l'integrale della densità di probabilità deve essere uguale a 1, su tutto il dominio, qui il dominio l'ho preso su tutto l'asse reale, ma può essere anche un l'asse positivo, l'asse negativo, dipende da che cosa sto misurando, un certo intervallo di misura. Qui di nuovo, qui ho messo le parentesi tonde, ho cambiato un po' la mia situazione prima, ma il significato vi è chiaro. la probabilità è data dall'integrale, dal limite inferiore del dominio, meno infinito, fino ad x, della densità di probabilità in y, in d y, in y, come sapete, è una variata di muta. Come stanno le relazioni tra la densità di probabilità e la sua probabilità? Ho preso quest'altro grafico che pure in qualche modo è crogete, nel senso che sembra di velocità del vento, e che rappresenta anche il passo in un passo ulteriore che noi cercheremo di fare in questo corso. Cioè queste che vedete segnate con le linee tratteggiate sono diverse curve di probabilità. Sono tutte curve di probabilità unimodali, hanno una sola moda, queste qua hanno una certa anche schiune, sono traslate, sono definite solo sull'asse positivo. Quella che è rappresentata a destra e con l'asse di destra sono le rispettive curve di probabilità relative alle curve di densità di probabilità che sono tratteggiate con lo stesso colore. Vedete la differenza tra le varie curve e a volte ridicola, ma voi pensate che a volte qui questa differenza minimale sono contenuti effetti fisici molto importanti. E qui ci sono vari esempi di velocità del vento in vari posti in Cina. Un altro elemento che qui è riportato ha a che fare con che cosa? Evidentemente l'istogramma è riferito ad una statistica e quello che gli autori di questo articolo cercano di fare è associare una probabilità ad un certo fenomeno fisico, ad una certa statistica, ad una certa distribuzione empirica. uno dei compiti di questo corso è vedere come questo si può fare. Qui lo facciamo visualmente, cioè è il modo in cui lo facciamo e prendiamo nell'insieme di una certa numero di funzioni che abbiamo definito. Per adesso lì hanno dei nomi, non hanno delle espressioni matematiche, ma queste hanno anche delle espressioni matematiche. Ho un certo campionario di classi di funzioni. Facendo variare i parametri, posso adattare le funzioni più o meno ai dati. Per esempio, questa qui, questa curva qua, si adatta bene a quei parametri, così visualmente. È un concetto qualitativo quello che sto esponendo, però certamente, se dovessi scegliere tra le due curve, immagino che tutti noi sceglieremmo la funzione. cioè che è una distribuzione di MyBull, poi capirete che cos'è la distribuzione di MyBull. Le modalità con cui si possono associare i dati alle funzioni di ripartizione e quindi poi poter applicare tutto quello che deriva dagli assiomi dell'attorabilità è l'arte della statistica applicata che noi studieremo e faremo e perseguiremo in questo corso. Un'ultima notazione sulla regola di Bias. La regola di Bias si può esprimere, cambiando, buttando lì, due o tre possibili notazioni per le probabilità, non scoraggiate, che se le notazioni a volte cambiano, io non lo faccio perché vi devo addestrare a essere in grado di leggere degli articoli dove la notazione cambia, però le notazioni cambiano, io stesso a volte le scrivo le cose in modo differente. Cambiando le notazioni cambia il modo in cui si possono scrivere la legge di Bias. La legge di Bias è una cosa interessante che qui il binomino prima di finire perché è importante. Allora sappiamo che il nostro problema principale è quello di associare distribuzioni empiriche o comunque una conoscenza empirica a delle probabilità che sono delle funzioni che vivono in un mondo particolare che è il mondo astratto della matematica. Dobbiamo mettere insieme le misure, le figure con la matematica. Allora la regola di Bias la possiamo descrivere così. Dove dico che la probabilità di x condizionata ad y è uguale a che cosa? La probabilità di y condizionata ad x per la probabilità di x diviso la probabilità di y. Allora per un momento sembra una riscrittura algebrica che dice tanto che è scritto questa informazione contiene la stessa informazione che c'era prima è vero però adesso vediamo un'interpretazione che la rende diversa. Allora osserviamo che a destra e a sinistra compaiono due distribuzioni di probabilità e tramite della variabile x. Allora questa è la variabile x prima che io sapessi delle informazioni y. Le informazioni y per esempio possono essere delle misure. La distribuzione di probabilità x può essere l'idea che io mi sono fatto di un certo fenomeno che mi permettono di assegnare una certa distribuzione di probabilità in base alle mie conoscenze a priori e si chiama questa distribuzione di probabilità marginale si chiama priori o distribuzione a priori in cui dico per esempio quello che traverso ma attraverso la distribuzione di un organo nell'intervallo 0-10 per esempio dopo faccio le misure e queste misure attraverso questo termine che si chiama likelihood verosimiglianza mi consentono di avere la nuova distribuzione la distribuzione a posteriori dopo che è avvenuto la conoscenza di y di sempre della variabile x cioè questo la forma di bias posta in questo termine mi consente partendo da misure arrivare da una idea che ho della probabilità ha di un'altra idea della probabilità regolata secondo le misure che ho fatto la presenza quindi può essere usata per rappresentare un processo di conoscenza interativo che ha a che fare con l'acquisizione progressiva di conoscenze detta così è rappresentata soprattutto se è resa meccanica attraverso la definizione di regole o di algoritmi o di scelte che permettono che determinano questa parte qua che è la diitering davvero semiglianza implementa da un processo automatico di determinazione della distribuzione degli eventi cioè della fisica dei fenomeni man mano che si acquisisse una conoscenza però lui che sicuramente ha fatto il liceo scientifico tirato a caso ha fatto anche filosofia e sapeva che Francis Bacon diceva che cioè il metodo induttivo cioè si raccolgono un sacco di informazioni e queste informazioni si deduce quello vengono fuori dalle conoscenze questo si chiama un metodo induttivo però la scienza che noi conosciamo è ipotetico di induttiva non è induttiva allora qui si potrebbe avere la sensazione che abbiamo implementato un metodo completamente induttivo che se ne frega della scienza cioè di 400 anni di storia per determinare quello che succede da questa parte qua beh evidentemente non è così il metodo ipotetico e induttivo sta in varie parti sta nella definizione della FIOR sta nella scelta della ICHEUS e sta poi nella verifica eventuale di corrispondimento che si può fare sulla distribuzione di probabilità se questa converge per esempio quanto velocemente converge a un qualche risultato qui dico cose che ho già detto in verità sulla verosimilianza alcuni distinguono questo termine complessivo di verosimilianza in due parti quella sopra che chiamano verosimilianza e quella sotto che chiamano evidenza perché la PDY per esempio è un insieme di misure che noi abbiamo fatto e la distribuzione di probabilità di PDY è conosciuta io adotterò in vari modi questa definizione spesso spesso la conoscenza della probabilità di dell'evidenza non è neanche necessaria in alcune procedure ancora vi ricordo che tutto questo procedimento comunque non implica rapporti causali ma solo associazioni tra gli elementi e in particolare non implica rapporti di causa ed effetto temporali perché la teoria è molto più generale da questo punto di vista per capire come associare allora in questa parte di lezione io vi ho man mano dato degli elementi per cercare di farvi capire seppure in maniera ancora vaga come dalle probabilità astrettamente definite si possono ottenere delle probabilità che rappresentano i fenomeni che noi stiamo studiando una è la regola di bias l'altra prima era l'interpolazione degli histogrammi per esempio un altro elemento importante in questo tipo di analisi è la determinazione di quello di trovare una corrispondenza tra le statistiche che vi avevamo introdotte in precedenza in particolare media varianza e momenti con media e varianza e momenti che si ottengono quando si conosca la distribuzione di probabilità certo ancora non la conosco ma intanto potrebbe questo potrebbe servire beh definisco come valore atteso che corrisponde poi alla media del nostro di un certo processo stocastico x l'integrale di y per la distribuzione di probabilità di questo processo stocastico in y in dy questo è anche il primo momento della si può mostrare che questa espressione del valore atteso corrisponde con la media nell'algoritmo che avevamo definito sui campioni in precedenza quando la lunghezza del campione diventa infinita posso definire il secondo momento come il quadrato di questa quantità l'integrale qui è da meno infinito e più di infinito ma si deve leggere su un segno di definizione della via distribuzione la seconda della distribuzione combinando i due elementi di prima posso definire la varianza di un certo processo stocastico come il valore atteso di una certa quantità che è x meno x al quadrato e che si scrive così allora qui potete capire da un certo punto di vista quello che vi dicevo prima vi dicevo ma siete sicuri che la media esiste? siete sicuri che la varianza esiste? per esempio questo integrale dipende dalle caratteristiche di regolarità di questa funzione in particolare del comportamento sintotico di questa funzione f di x e questo integrale potrebbe essere per esempio più infinito o meno infinito no più infinito oppure potrebbe essere zero che comunque è un'altra un'altra tanta banale conclusione che potrebbe servire a questo la definizione standard è la radice di questa quantità e qui vi dovete fidare nel dirvi che queste quantità corrispondono esattamente a quelle che abbiamo definito in statistiche quando il campione statistico è molto grande quant'è molto grande un campione statistico è molto grande in generale dipende dal fenomeno non si può dire a priori però per esempio un numero di avogazzo 10 da 23 è certamente molto grande anche solo 10.000 può essere molto grande e talvolta anche 10 è molto grande e qualche volta siccome abbiamo solo 10 è molto grande in generale possiamo definire il momento ennesimo in questo modo voi capite che se noi conosciamo questo siamo in grado di intercorrare questi momenti di una certa distribuzione c'è questo problema che abbiamo viceversa e molto spesso conosceremo qualche momento e provremo da questi per chiedere la forma della distribuzione e qui possiamo andare a mangiare penso che lo sia probabilità